Le impressioni sono state buone fin dal primo giorno, devo dire, grande affluenza allo stand, noi siamo qui in Sicilia, che è un padiglione molto affollato, lo stand di Donna Fugata è affollatissimo, devo dire molti italiani e gli italiani sono ritornati a consumare, sono ritornati a comprare, i nostri numeri lo dicono e l'affluenza lo dice, gente qualificata. Per quanto riguarda l'estero, devo dire, abbiamo avuto buone presenze, buoni riscontri, per quanto riguarda la presenza della stampa, per esempio sulla stampa estera qualcosa in più ci avrebbe fatto piacere.